Uomini e donne piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi, ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate la Sacra Scrittura che è la parola di Dio afferma nell'Epistola ai Romani quanto segue il salario del peccato è la morte ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Dunque c'è un salario che è quello che appunto dà il peccato a chi lo serve. Allora il peccato è la violazione della legge. Chi commette il peccato quindi commette una violazione della legge di Dio. E chi commette il peccato è schiavo del peccato. Cioè il peccato è il suo padrone. Il peccato ripaga chi lo serve con la morte. Per cui il peccatore è morto nei suoi falli, nei suoi peccati. Quindi voi dovete considerare questo, voi che servite il peccato e non potete dire di non servirlo perché tutti hanno peccato, voi dovete considerare questo. La vostra posizione in questo preciso momento è questo, siete degli schiavi. Schiavi del peccato che servite e che vi ripaga con la morte. Siete dunque morti. Ora, dov'è che conduce la via dove vi trovate? Perché voi siete sopra una via, state camminando per una strada. Dove conduce questa strada? Conduce in perdizione. Perché coloro che servono il peccato vanno in perdizione quando muoiono, essendo dei peccatori. Muoiono nei loro peccati e quindi vanno in perdizione. La loro anima appunto si diparte dal loro corpo e scende in un luogo di tormento chiamato Hades, dove c'è il fuoco e dove appunto l'anima del peccatore è tormentata in mezzo al fuoco. Quindi dovete considerare attentamente queste cose perché siete in gravissimo pericolo. Doveste morire in questo preciso momento, poi andreste all'inferno. Perché? Perché siete dei peccatori. Perché l'ira di Dio è sopra di voi in quanto siete dei nemici di Dio. Ma se da un lato c'è il salario del peccato, dall'altro c'è il dono di Dio. Già, il dono di Dio. Quindi già il fatto che sia chiamato il dono di Dio vuol dire che Dio dona questa cosa e quindi non è che la si può guadagnare o la si può meritare. Allora il dono di Dio qual è? La vita eterna in Cristo Gesù. Dunque la vita eterna non è qualcosa che potete guadagnarvi o potete meritarvi con delle opere giuste, delle opere buone. La vita eterna è il dono di Dio che si riceve quindi gratuitamente da Dio. Ma com'è che si riceve gratuitamente da Dio? Per fede. Già. Per fede. Per fede che cosa significa? Significa credendo nel Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Infatti è scritto, chi crede nel Figliolo ha vita eterna. E Gesù disse, chi crede ha vita eterna. Dunque coloro che credono nel Signore Gesù Cristo ricevono la vita eterna. Cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo? Credere che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, infatti. L'Evangelo che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma è il giusto, vivrà per fede. Dunque, credendo nell'Evangelo, l'uomo ottiene la vita eterna. Ma badate, non è che ottiene solo la vita eterna, ottiene anche la salvezza dal peccato, perché appunto ne è schiavo, ma credendo nell'Evangelo viene affrancato dal peccato. Ottiene anche la remissione dei suoi peccati, perché di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome, riceve la giustificazione che dà vita, perché il giusto vivrà per la sua fede, e dunque viene riconciliato con Dio, smette di essere un nemico di Dio e diventa un amico di Dio. Tutto questo dunque per grazia, credendo nell'Evangelo. Ecco dunque che cosa dovete fare per ottenere la vita eterna. Quando noi diciamo che abbiamo la vita eterna, spesso ci sentiamo rispondere, ma voi siete dei presuntuosi, come fate a dire questo? Non siamo presuntuosi. Quello che vi diciamo ve lo diciamo perché è parola di Dio, è scritto. Infatti Giovanni, uno dei discepoli di Gesù, ebbe a scrivere, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Dunque il Dio a noi che abbiamo creduto ci ha dato la vita eterna, questa vita è nel suo figliolo. Dunque per quello vi esortiamo a ravvedervi e a credere nell'Evangelo per ottenere così, per grazia, mediante la fede, la vita eterna. E così sarete sicuri, quando appunto morirete, di morire nel Signore e di andare ad abitare col Signore. Sì, perché coloro che muoiono in Cristo si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli. Chi muore nel Signore si riposa infatti dalle sue fatiche e per questo che è beato perché entra in questo luogo di riposo che è chiamato anche riposo di Dio e che è il Regno dei Cieli. L'ha appunto chi ha creduto, chi si era veduto e ha creduto nell'Evangelo e persevera fino alla fine nella fede entra e si riposa dalle sue fatiche in maniera cosciente. Considerate dunque la grande differenza tra chi muore, cioè tra il luogo dove va chi muore nel Signore e il luogo dove va chi muore nei suoi peccati. È una differenza abissale perché chi muore nel Signore appunto tanto che ha la vita eterna va ad abitare con il Signore nel Regno dei Cieli nella gloria dove c'è la pace. Mentre chi muore nei propri peccati perché appunto rifiuta di credere nel Signore Gesù Cristo va all'inferno. La scrittura è chiara chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi ciò che vi aspetta se rifiuterete di rivedervi di credere nell'Evangelo è la condanna. Non c'è via di scappo. Ve lo dico con ogni franchezza perché questa è la verità. Quando vi ritroverete all'inferno per avere rifiutato di credere nell'Evangelo vi ricorderete di queste mie parole che sono le parole di Gesù. Chi non avrà creduto sarà condannato e vi renderete conto del grave errore che avrete fatto nel rifiutare di credere nell'Evangelo della grazia di Dio. ma sarà troppo tardi. Quindi affinché ciò non accada vi esorto cioè affinché voi non andiate all'inferno perché il mio desiderio non è quello che voi andiate all'inferno. Il mio desiderio è che voi siate salvati. Quindi ravvedetevi e credete nell'Evangelo che vi ho annunziato. Il Signore è buono è pronto a perdonare coloro che si ravvedono e credono nel suo figliolo. Chi crede nel figliolo ha vita eterna. Che orecchi da udire Oda.